un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo proprio qui nel percorso che ci porta verso la cripta di santa maria delle grazie o verso la cella di padre pio da pietra il cinema cella numero uno oggi qui in questo percorso perché spesso quando i pellegrini percorrono questo piccolo vialetto ecco se si soffermano spesso su una serie di immagini che raccontano la storia di padre pio ma anche la storia del suo iter formativo ecco come ad esempio in questo convento è il convento di sant'anna sito in via sant'antonio a foggia dove padre pio giunse per la prima volta il 17 febbraio del 1916 vi si trattenne fino al 28 luglio che grazie ad un frate cappuccino il guardiano di questo convento padre paulino da casa calenda lui poi venne qui ma questa in questa giornata ecco il 17 febbraio del 1916 padre pio giunse per la prima volta in questo convento grazie al suo provinciale possiamo dire proprio così il suo provinciale padre benedetto grazie a padre agostino e con la complicità di donna raffalina cerasa ecco riuscirono queste tre persone anche la stessa raffalina offrendosi vittima riuscirono a riportare finalmente dopo tanti anni padre pio in convento ma oggi vogliamo raccontarvi quello che lo stesso padre paulino da casa calenda padre paulino di tommaso racconta nelle sue testimonianze ecco questo è un libro che padre gerardo di flumeri ha voluto pubblicare nel 1978 per la prima volta raccontando tutte le memorie di padre paulino che era già deceduto nel 1964 e lui racconta di questo rapporto con padre pio di come poi lo ha portato pure qui a san giovanni rotondo ma anche di quei mesi dei mesi che padre pio trascorreva in questo convento che cosa accadde accadde una volta che lui giunse in questo convento è intorno a maggio maggio del 1916 e lui racconta che proprio qui si parlava ecco si chiacchierava sentiva dire da altri frati quello che accadeva nel convento di sant'anna il diavolo era arrivato in convento quando era arrivato padre pio cominciavano i frati a percepire sentire forti detonazioni il refettorio si trovava proprio sotto la stanza di padre pio una forte detonazione poi colluttazioni rumori i frati andavano su nella stanza di padre pio e lo trovavano in un bagno di sudore tutti preoccupati allarmati ma soprattutto tutti impauriti i confratelli di padre pio cosa era accaduto padre paolino lo racconta in queste sue memorie ecco lui un giorno voleva vederci chiaro di questa di questa situazione quel giorno in quei giorni che lui in cui si trattenne dato che lo conosceva aveva conosciuto questo ragazzo ha già nel periodo della formazione lui racconta che una sera si volle direttamente intrattenere nella sua cella e padre pio sorridendo sconsigliò padre paolino di restare trovando diverse scuse ma soprattutto dicendogli mi sento che oggi non accadrà perché ci sei tu allora il tempo passava e vedendo che niente avveniva io dissi a padre pio vedi finora niente è avvenuto ma io non andrò a cena se prima i confratelli non escono dal refettorio per la ricreazione padre paolino disse credevo che tutto andasse liscio ma nel momento in cui sono uscito dalla porta della cella di padre pio ho chiuso la porta ho fatto il primo gradino delle scale che mi portavano giù una forte detonazione che mi ha mi ha scombussolato il tempo di ritornare nella cella di padre pio aprire la porta e lo trovai immediatamente come accadeva nelle altre sere in un bagno di sudore ecco cosa accadeva in queste sere il diavolo il diavolo lo tormentava il diavolo lo picchiava ma quello che succedeva in quelle sere metteva anche paura agli altri frati tant'è vero che in quei giorni c'era anche il ministro provinciale padre benedetto in convento padre benedetto porto padre paolino nella cella di padre pio e vado sul virgolettato padre paolino puoi rimanere qui e poi anche tu sentire quello che sto dicendo io a padre pio dunque il mio caro figliuolo proseguì il padre provinciale sorridendo a padre pio e ripetendo è necessario che questi rumori cessino una buona volta qui c'è una comunità religiosa dove non solo vi sono degli anziani che non sentono tanto timore per quello che avviene ma c'è qualche frate giovane che si spaventa vive in uno stato di grande nervosismo e poi ci sono i frati che passano di qui specialmente ora che la guerra imperversa e tu capirei bene che non si fermerebbero volentieri pur essendo costretti dalla dura necessità ma padre rispose umilmente padre pio vostra paternità sa benissimo che io non ho colpa non centro affatto in tutto questo che avviene la volontà del signore che permette tutto questo capisco bene rispose il provinciale che tu non centri però tu puoi anzi tu devi pregare il signore perché egli compia la sua volontà che io come superiore per il bene superiore di questa comunità desidero di essere accontentato almeno in questo che i rumori non vi debbano più essere e padre pio ancora con grande umiltà disse farò la santo benienza finì col dire padre pio scrive padre paulino speriamo che il signore ascolte la mia povera preghiera e scrive padre paulino il colloquio al quale lui ha avuto la fortuna di assistere era finito però quello che accadde fu proprio così scrive padre paulino i rumori non si sentirono ma le colluttazioni col demonio gli attacchi del demonio continuarono in questo convento a sant'anna